Il podismo, la saccenza e l'uona russo della Marathon Club Sciacca, protagonista anche nelle corse campestri. Dopo l'ottimo esordio a Sciacca, nella prima tappa del Grand Prix regionale Fidel dello scorso 2 febbraio, dove si è piazzata quinta assoluta tra le donne e seconda nella categoria SF35, e dopo la buona prova dello scorso 9 febbraio ad Acireale, seconda tappa del Grand Prix, dove si è piazzata al decimo posto nella classifica generale donne e seconda nella categoria di appartenenza in base alla fascia d'età, ieri è stata superlativa anche sullo sterrato a Marsala. Dopo uno stop forzato, l'uona russo si sta riprendendo alla grande, raggiungendo il top della forma. Per quanto riguarda la gara di ieri, russo si è piazzata al secondo posto nella classifica generale tra le donne, ad una manciata di secondi dalla prima assoluta, e nella categoria SF35 si è piazzata al primo posto. Come tempi, soltanto 37 uomini si sono classificati davanti alla forte Atleta Saccense. La corsa campestre di ieri, denominata ventesimo trofeo podistico Garibaldino, seconda prova del Grand Prix provinciale Fidel di Trapani, è stata organizzata dalla polisportivo Marsala Doc e si è disputata all'interno del parco della Salinella. Sotto una bella giornata di sole si è svolta un'unica batteria in un percorso interamente sterrato lungo 1300 metri per sei giri, con un totale di circa 7 chilometri. Gli arrivati al traguardo sono stati 187. La gara femminile è stata aggiudicata ad un atleta della Cinque Torri Trapani, mentre il secondo trofeo podistico Garibaldino è stato vinto da Enrico Grumelli della IPA Alcamo, con il tempo di 23 minuti e 41 secondi. E passiamo alle arti marziali. Ad Ostia Lido si è tenuto il campionato nazionale juniores maschile e femminile per la specialità cumité, proposto dalla federazione Filcam. Protagonisti ancora una volta gli atleti della Ippon Carata Lentini. Irene Marturano ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, unica nata nel 2005 in un podio connotato da atleti del 2003, cosa che la conferma tra i migliori atleti italiani in questo periodo. Per Marturano quindi ancora un podio, dopo le ottime prestazioni e terzi posti a Jesolo, Budapest e Follonica. Quinto posto per Andrea Danna, che si è dovuto arrendere nella finalina per il bronzo. Settimo posto per Simona Di Gaetano e buone prestazioni pure per Beatrice Curreri, Paolo Propizio, Giacomo Cardinale, Mattia Rubanzeri e Giuseppe Gulino. Grazie a questi ottimi risultati il sodalizio di Piero e Marco Lentini per l'anno 2019 si è classificato al quattordicesimo posto a livello nazionale tra le società iscritte alla Filcam, la federazione coni che a luglio presenzierà alle prime storiche Olimpiadi. Su 1350 società tesserate per la Ippon Karate Lentini uno straordinario quattordicesimo posto, prima società agrigentina e prima società siciliana in classifica. Una soddisfazione che i tecnici Piero e Marco Lentini condividono con i loro brillanti atleti.